Do you wanna know a secret? Lei avanti Eir col super Ancora all'uno però purtroppo Mi dispiace tenerla ancora col super Col breve all'uno Jade Maxwell che Ci stiamo avvicinando al super Abbiamo già al super E Sotnarg con All'84 ancora col breve all'uno Quindi Ancora molto 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 indietro Il dungeon l'avevo ancora fatto Durante le vacanze L'ho fatto appena uscito Solo che ho dovuto Farlo perché Farlo prima Quindi Ho già preso la gemma Ma andiamo a vedergli le statistiche Allora Statistiche Buone Direi Io direi Come al solito Anima è consigliato Poi Lord Dato che è una curatrice Magari Non saprei se è l'istruttore Buono No Poi In Ovviamente Magari in arena Ma non saprei Poi il brave Fa recuperare PS Tutti gli alleati E aumenta attacco Difesa e rec Del 60% Del 60% Se la portate Col brave a 10 Aumenta attacco 60% Difesa 60% E rec 60% Si Se andate a vedere L'eurone Che è Libra La zebra Quella zebra La tigra bianca Aumenta del 60% Anche lei Se non sbaglio Però Sì O 60% 70% Poi Invece Il super Attacca Quindi Col brave Fa da healer Mentre col super Attacca Ed è Una cosa Figa E riduce Attacco e difesa Del 30% Ritorniamo A lei Grandissima Lucana Terra lite E Elisir forza Per togliere Tanti danni Perché la terra lite Aumenta del 50% L'attacco Di quelli terra E l'elisir forza Del 50% L'attacco Quindi un 100% D'attacco E direi che si può Andare in ordine Con Maxwell Jade Che aumenta Quel poco D'attacco Air La uso per Maxwell Che ha la mortascia Sotnarg Che attacca forte E Namkina Che attacca singolo Per quello Ho selezionato Lucana prima Poi adesso Maxwell E fatto Fatto critico Ma non riceverà Il danno Da spark Povera Maxwell Ancora al 31 E infatti Muore Ma L'ho avvelenata Con Namkina Forse Fico Sì Sì Grande Cos'è Gli ha dato Quale a 38000 Boh Beh Non l'abbiamo presa Questa volta Durante Il video Peccato E' la prima unità Oltre a Reed Che non prendo Forse Perché L'avevo già presa Esattamente E' la prima volta Che ho fatto il dungeon Che ho ricevuto Anche la gem Ho preso anche Lucana Ve la faccio vedere Vedo di sé Unitae Ed è Eccola qua L'ho presa Lord Va benissimo Lord E va benissimo Va bene ragazzi Spero che il video Corto vi sia Piaciuto Ricordo di mettere Mi piace anche Alla pagina Facebook Di iscrivervi al canale Noi ci vediamo Al prossimo video Con nuovi contenuti Ciao ragazzi